Cardello di Luigi Capuana Ottavo. Il capolavoro di Cardello. La creta, manipolata con tanta accuratezza, aveva dato terrecotte infinitamente superiori alle rozze stoviglie dei quartarai, ma da quelle alle terrecotte leggerissime dei vasetti antichi ci correva ancora molto. Cardello fu incaricato di triturare in un gran mortaio di marmo una buona quantità della creta già ridotta in polvere fina e ben stacciata. Forse bisognava renderla impalpabile per ottenere maggior densità di impasto e nello stesso tempo maggior leggerezza. Le due tazzine già cotte erano sottili quanto le tazze di porcellana, ma il piemontese ne aveva spezzata una per accertarsi della qualità dell'impasto e aveva buttato via i cocci con stizza. Cardello a quel lato si era sentito stringere il cuore. Non riuscivano dunque e gli era parso di veder svanire tutta un tratto il suo bel sogno della fabbrica. Il piemontese, però, era ostinato come un mulo. Quando si metteva in testa una cosa non pensava ad altro, fino a che non si persuadeva che era inutile ritentare. La creta, ridotta in polvere impalpabile, Cardello aveva le braccia indolenzite dal pestare e confricare due interi giornate. Era stata impastata, aggiungendovi un po' di strutto per renderla grassa. E intanto che i vasetti e le tazze foggiate stavano esposte al sole nella terrazza, il piemontese cavava fuori dalle cassette i medicamenti e li scioglieva con l'acqua in due catinelle, dopo aver pesato accuratamente le dosi e misurata l'acqua col bicchiere graduato. Tanti grammi di quella, tanti grammi di questa, col libro davanti per non sbagliare. Cardello avrebbe voluto sapere che cosa erano quei medicamenti e come si chiamavano, ma il piemontese, zitto zitto, faceva tutto da sé. Cardello doveva accontentarsi di stare a guardarlo e sgranava gli occhi seguendo quell'operazione misteriosa che doveva poi dare lo stagno ai vasetti e alle tazze. Infatti, quando le misture furono pronte, quegli prendeva uno dei vasetti, lo immergeva in una delle catinelle agitandolo, rivolgendolo da tutte le parti e tiratolo fuori, faceva colare liquido in modo da poter formare uno strato uguale. Poi con un pennello vi spruzzava un po' del liquido dell'altra catinella e metteva il vasetto su una tavola perché la mistura colasse ancora e si eguagliasse meglio. Ripeteva la stessa operazione con gli altri due vasetti e con la tazza rimasta intatta e, insieme con Cardello, portava delicatamente la tavola al sole nella terrazza. Diventeranno lucidi ora? domandò Cardello. Bisognerà rimetterli nel forno, lo accenderemo domani. Che sorpresa per Cardello quando, due giorni dopo, vide cavar fuori i vasetti e tazza lucidi con un bel verde scuro macchiettato qua e là di nero. Ah, quel piemontese era un mago addirittura. Questa volta il padrone gongolava, osservava sorridendo i vasetti, voltandoli e rivoltandoli, passandoseli da una mano all'altra, presentandoli all'ammirazione di Cardello con dirgli eh, 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 a cui Cardello rispondeva battendo le mani. Solamente egli sentiva un po' di tristezza, pensando che il piemontese avrebbe tenuto quel segreto per sé e che lui non avrebbe mai saputo fare niente di simile, e guardava con un senso di invidia quel libro che il padrone consultava a ogni po'. Doveva essere un libro di magia. Una volta, nell'assenza di esso, Cardello avea provato di leggerlo, ma non ci aveva capito niente. Si era però trascritto il frontispizio per ogni caso. Leggi e rileggi, doveva finire con intenderlo. La buona volontà non gli sarebbe mancata. Ci furono parecchi giorni di sosta. Cardello avea dovuto tornare a sorvegliare gli operai. Il piemontese, a corto di quattrini, passava intere giornate al municipio per strappare un acconto al sindaco, che giurava di non dare più un soldo se i lavori laggiù non venivano spinti innanzi con sollecitudine. Oltre alla testardagine, il piemontese aveva anche, quando correva, una bella chiacchiera. Pregava, minacciava liti, si raccomandava, faceva vedere le cose quattro e quattro fa otto, protestava che prima della fine dell'anno i lavori sarebbero compiuti. Voleva guadagnarsi il premio stipulato nel contratto, per caso che la conduttura fosse allestita prima del termine fissato. Non era così sciocco da lasciarsi sfuggire di mano quella bella sommetta di parecchie migliaia di lire. E tornando a casa, senza aver cavato un ragno da un buco, si sfogava con cardello, mentre questi preparava il desinare. Gli ripeteva la scenata avuta con quel somaro di sindaco, quasi quattrini, invece di questo, avesse dovuto dargli lì cardello. Intanto non potevano fare altrimenti. Questo era il gran guaio. Gli mancavano parecchi ingredienti per lo stagno e bisognava farli venire da Torino. Costano troppo? Un centinaio di lire. Non posso spendere per essi le paghe degli operai. Cardello stette zitto e la mattina dopo, mentre il padrone si preparava in fretta e in furia per andare al municipio ad assalire nuovamente quell'asino di sindaco e in durlo, ad accordargli l'acconto e a firmare il mandato, cardello tutto confuso, si presentava al padrone balbettando. Ecco le cento lire, se le accetta. Chi te le ha date? Sono mie, risparmi che tenevo alla posta. Sei un buon figliolo, ti ringrazio. No, no, va a rimetterle dove erano. Perché mi dà questa mortificazione? Aveva risposto cardello con voce piena di lacrime. Le accetto per pochi giorni, riprese il piemontese commosso. Sei un bravo figliolo. Il sindaco dovrà darmi l'acconto, ora che arriva la prima spedizione dei tubi di Ghisa. Ho ricevuto l'avviso ieri sera. Appunto per quei tubi erano sorte e difficoltà con la dogana. Il piemontese aveva dovuto assentarsi e siccome nella settimana si attendeva la visita di un ingegnere della provincia per osservare lo stato dello scavo e i lavori erano stati sospesi fino al ritorno dell'appaltatore e all'arrivo dell'ingegnere, cardello, rimasto solo in casa, con tutta quella creta, con la rota, col forno e coi medicamenti a sua disposizione, riprese subito a foggiare vasetti, come meglio sapeva, e tazze, disfacendo e rifacendo quelli che gli sembravano mal riusciti e mettendoli al sole perché si seccassero presto. Voleva far vedere al piemontese che egli, cardello, non era uno stupido e che se un giorno o l'altro veniva messo a capo della fabbrica di stoviglie stagnate, quel posto se lo sarebbe meritato. E mentre i vasetti e le tazze si seccavano al sole, neppure a farlo apposta, in quei giorni il sole si affacciava a intervalli dalle nuvole che ingombravano il cielo, né tirava un soffio di vento che sarebbe servito ad asciugare la creta quasi quanto un'occhiata di sole. Cardello preparava la legna per riscaldare il forno e si aggirava per le stanze stringendo i pugni, alzando viecamente gli occhi al soffitto appena rifletteva che non avrebbe saputo come regolarsi per le dosi dei medicamenti. E poi le boccette erano parecchie e nel momento che il piemontese aveva fatto la mescolanza egli aveva dovuto andare di là. Non ricordava più per che cosa, forse allontanato apposta da quello per timore che lui potesse impadronirsi del segreto. Il libro era là, sulla scrivania, ma egli non ci capiva niente, per quanto leggesse e rileggesse. Basta, si sarebbe affidato alla sorte. Intanto bisognava prima cuocere i vasetti e le tazze. Intorno alla riuscita di questa operazione non aveva dubbi di sorta alcuna. In un vasetto soltanto era avvenuta un'incrinatura al collo, forse perché non bene asciutto, ma questo era niente. Il difficile veniva ora. Gli tremavano le mani sturando la boccetta, versando un po' del contenuto nella catinella con l'acqua, facendo una mistura a casaccio, rimestandola, aggiungendovi un po' di medicamento dell'altra boccettina, quando gli era parso che il liquido non fosse denso abbastanza. chissà che intruglio ho fatto. E soltanto ora che non poteva rimediare gli si affacciava alla mente la riflessione che forse aveva asciupato cosa costosa e che il piemontese al ritorno non gli avrebbe perdonato l'imprudenza commessa. Ormai è fatta, egli esclamò. Si pagherà semmai con le cento lire. Cominciò a collocare i vasetti già ben secchi nella parte superiore del forno, come aveva visto fare al padrone, e die fuoco la legna, alimentando continuamente la fiamma, col cuore che gli batteva forte dall'ansia, pregando a mani giunte. Madonna santa, aiutatemi. Diciotto ore di fuoco, di continua commozione e anche digiuno. La sera si era buttato sul letto, sfinito, dopo aver mangiato soltanto due bocconi di pane con un po' di cacio e bevuto un bicchierone d'acqua. Aveva dormito così profondamente che, svegliandosi, non si rammentava bene di quel che aveva fatto il giorno avanti. Poi, in camicia e mutande scalzo, si era precipitato a corsa nella stanza del forno già freddato e, quasi non respirando, con mani convulse, aveva cavato fuori uno dei vasetti. Rimase, non credeva ai suoi occhi. Invece di verde scuro, macchiettato di nero, il vasetto era iridato, con riflessi di verde pallidissimo, con venature che, secondo la luce, apparivano di oro rosso cupo, cangianti. Fin l'incrinatura del collo era sparita sotto lo strato dello stagno. L'altro vasetto e le due tazze, chissà perché, erano riusciti meno belli. Poche iridi, poche venature di oro rosso cangianti e larghe chiazze di color cioccolata e di grigio sporco. Cardello stette lunghe ore, quasi in adorazione, davanti al mirabile vasetto. Si figurava che il furbo piemontese nel primo esperimento non aveva voluto adoprare i medicamenti più costosi, contentandosi di ottenere quel colore verde scuro macchiettato di nero, tanto per persuadersi se sarebbe riuscito. Che dirà? Si domandava Cardello. Ma la vista del vasetto lo consolava anticipatamente di tutte le sgridate e anche dei possibili furori del piemontese, che di ordinario era freddo, serio, ma se montava in bestia diventava proprio intrattabile. Cardello si affrettò a far sparire ogni traccia delle operazioni fatte. Buttò via la mistura dei medicamenti, ripose le boccette nella cassetta in modo che quelli non avesse potuto accorgersi subito che erano state adoprate. Nascose i vasetti e le due tazze in un baule e, aspettando il ritorno del piemontese, si stringeva nelle spalle ripetendo «Ormai!» e non poteva trattenersi dal soggiungere, sorridendo di soddisfazione. Intanto il mio vasetto è assai più bello dei suoi. Ti è piaciuto il video? Allora metti like, sostieni il canale, è sufficiente un semplice like. Vuoi farmi sapere cosa ne pensi? Lascia un commento, ti risponderò. Anche questo può aiutare il canale. E se ti è piaciuto questo audiolibro, iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella. Grazie!